Una presenza che può arrivare a 9.000 atleti con benefici economici formidabili per il settore del turismo, del commercio, della ricettività e la possibilità di avere a disposizione una vetrina internazionale per il capoluogo di regione. L'Aquila si candida a organizzare la 23esima edizione dei campionati mondiali master di atletica leggera che si terranno dal 16 al 31 luglio 2022. Un'opportunità che è stata presentata in conferenza stampa al Palazzo dell'emiciclo. All'incontro erano presenti anche il presidente Giuseppe Di Pangrazio, l'assessore Silvio Paolucci e l'assessore comunale Carla Mannetti. Il presidente della commissione territorio del consiglio regionale Pierpaolo Pietrucci ha ringraziato gli artefici della candidatura attorno a cui si è creata una promettente sinergia tra il mondo delle istituzioni e quello dello sport. È un'occasione straordinaria sia in termini economici sia in termini di divertimento e di vivacità. È un momento straordinario che può rappresentare anche per lo sport. Abbiamo grandi motivazioni per credere che questa candidatura possa andare a buon fine a settembre. L'Aquila si presta sempre più ad essere, a divenire punto di riferimento della cultura in Abruzzo, quindi città di cultura, città dello sport e città di montagna. Sono tre elementi identificatori di questo territorio e su questi voglio continuare a lavorare. Mentre Gianni Lolli, a capo del comitato promotore che ha curato l'operazione sin dal periodo successivo al terremoto del 2009, ha accompagnato in questi giorni la Commissione internazionale allo scopo di visitare la città e valutare l'idoneità alla candidatura. Credo che hanno visto alcune delle nostre strutture e sono rimasti non entusiasti ma di più. Certamente c'è molto da lavorare e molto da integrare. Logicamente l'interazione che avverrà collegialmente con le autorità sia locali che nazionali aiuterà sicuramente questo. e questo è un biglietto da visita importante. È importante stato il biglietto da visita di oggi dove erano presenti tutte le autorità pubbliche delle amministrazioni, regioni, province, comune che hanno fatto capire alla delegazione che c'è pieno appoggio da parte delle autorità locali ed anche oltre perché la FIDAL nazionale, il CONI, a voler far sì che questo evento possa essere fatto all'acqua. Il Master di Atletica è un evento biennale e vi partecipa un atletico con oltre 35 anni di età. Quest'anno si terrà a Malaga. La decisione finale ci sarà a settembre. L'Aquila dovrà vedersela con la svedese Göteborg e la finlandese Tampere.